Gina Carano ha denunciato la Disney con supporto legale dell'uomo più ricco del mondo, Elon Musk. Nell'agosto 2023, Musk aveva scritto su Twitter, se sei stato trattato ingiustamente dal tuo datore di lavoro a causa di un post o di un like su questa piattaforma, ti paghiamo le spese legali, senza limiti. Scrivici. E tra le decine di migliaia di persone che hanno risposto all'appello di Elon Musk, c'era anche questa donna, Gina Carano. È un'ex lottatrice del UFC, diventata attrice professionista. Gli avvocati di Musk hanno contattato Gina e ora stanno portando avanti il suo caso, che è molto interessante. Vediamo l'antefatto. Questa è la Disney, un tempo emblema dell'America più pura, ma che ultimamente è in gravi difficoltà. Ha perso circa 79 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Le ragioni di questo crollo sono varie, ma la vicenda di Gina Carano può spiegare molti dei motivi per cui la Disney è sull'orlo della bancarotta. Nel 2021, il prezzo delle azioni della Disney era ai massimi storici. Nuotava nell'oro come zio paperone. Tra le sue tante novità c'era The Mandalorian, una serie tv ambientata nell'universo di Star Wars, ed era uno dei programmi più visti online, se non il più seguito. Nel febbraio del 2021, due degli attori principali di Mandalorian, Gina Carano e Pedro Pascal, hanno rilasciato due dichiarazioni politiche distinte e molto diverse. Sebbene entrambi facessero analogie con i nazisti e l'olocausto, la Lucasfilm, che è di proprietà della Disney, ha deciso di licenziare solo uno dei due. Vediamole. Pedro Pascal ha postato su Instagram questa immagine, in cui paragona la metà del paese, che sostiene il presidente Trump, ai nazisti del 1945 e ai confederati del 1865. I sostenitori di Trump, cioè circa la metà dell'America, per lui sono dei nazisti. Mentre Gina Carano ha pubblicato l'immagine di una donna ebrea in Polonia, inseguita durante l'occupazione nazista, commentando, gli ebrei venivano picchiati per strada, non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini di casa, persino dei bambini. Poiché la storia viene modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che il governo, per fare in modo che la polizia nazista riuscisse facilmente a rastrellare migliaia di ebrei, aveva prima fomentato nei loro vicini l'odio per il solo fatto che erano ebrei. Qual è la differenza rispetto a odiare qualcuno per le sue idee politiche? Probabilmente si riferiva alla discriminazione subita da parte dei media e del governo dalle persone non vaccinate, portata fino alla disumanizzazione, all'esclusione dai servizi e alla perdita del lavoro se si rifiutava l'iniezione. O forse si riferiva al fatto che qualcuno bollava metà del paese come nazista. Queste sono le dichiarazioni rilasciate dai due attori di Mandalorian. Pedro Pascal paragonava i sostenitori di Trump ai nazisti. Gina Carano diceva che demonizzare una parte della società può portare al genocidio. E indovinate che è successo. A Pedro Pascal non è successo assolutamente nulla. Gina Carano è stata cacciata via. La Lucasfilm, che ripeto è una consociata della Walt Disney, ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega le ragioni del licenziamento. Gina Carano non è impiegata presso la Lucasfilm e non è previsto che lo diventi in futuro. Non di meno, i suoi post sui social, che denigrano le persone in base alla loro identità culturale e religiosa sono ripugnanti e inaccettabili. L'assurdità è lampante. Nel messaggio di Gina Carano non c'è nulla che si possa ragionevolmente definire denigratorio delle persone in base alla loro identità culturale o religiosa. Tutto il contrario, semmai, è quello di Pascal, che realmente denigra le persone in base alla loro posizione politica. Ma Pedro Pascal è rimasto al suo posto. Mentre Gina Carano non solo è stata licenziata, ma è stata scaricata anche dalla sua agenzia. Questo succedeva nel febbraio del 2021, quando il prezzo delle azioni Disney era al suo massimo. Da quel momento il prezzo delle azioni Disney è crollato di quasi il 50%, bruciando decine di miliardi di valore di mercato. E se perdere tanti soldi fa certamente male, ora per la Disney si mette pure peggio. Infatti, proprio ieri, tre anni dopo il licenziamento, Gina Carano ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui annuncia la sua azione legale contro la Disney. Ecco cosa ha scritto. Oggi per me è un giorno importante. Presento una denuncia contro la Lucasfilm e la Disney. Dopo aver costruito una carriera da zero, in 20 anni, e sotto il regime dell'ex AD Disney Bob Chapek, la Lucasfilm, licenziandomi dal Mandalorian, ha dichiarato su Twitter, Gina Carano non è attualmente alle dipendenze della Lucasfilm e non è previsto che lo diventi in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media, che denigrano le persone in base alla loro identità culturale e religiosa, sono ripugnanti e inaccettabili. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La verità è che ogni cosa che ho pubblicato è stata eliminata, ogni like, perché non ero in linea con la versione ufficiale. Le mie parole sono state costantemente distorte per demonizzarmi e disumanizzarmi, come un vecchio estremista di destra. È stata una diffamatoria campagna di linciaggio mirata a zittirmi, a distruggermi in modo esemplare. Poi, in riferimento ai suoi post, chiede, le mie domande sulle mascherine, i lockdown e i vaccini forzati andavano bene per fare chiarezza sull'argomento? Dovevo chiedere l'autorizzazione per parlare pubblicamente di questi argomenti in quel momento per non venire molestata o censurata? Assolutamente sì. Hollywood dice di sostenere la rappresentanza femminile e la parità di diritti. Perché allora ai miei coprotagonisti maschili è stato permesso di parlare senza subire molestie e corsi di rieducazione o licenziamento, mentre a me non è stato concesso lo stesso diritto di libertà di parola? Poi spiega come ha contattato Elon Musk dopo il suo annuncio senza sperarci molto. Con mia grande sorpresa, qualche mese fa, ho ricevuto un'e-mail da un avvocato assunto da X per indagare sulla mia storia e su molte altre. Dopo aver inviato tutte le informazioni che ho potuto raccogliere negli ultimi mesi, i miei avvocati e X credono fermamente nel mio caso e stanno andando avanti. Vorrei riprendere da dove ho lasciato e continuare il mio viaggio nella creatività e nel rappresentare storie, che è la mia grande passione ed è tutto ciò per cui ho lavorato tanto duramente. È stato difficile andare avanti con le falsità e le etichette che mi sono state affibbiate, sostenute e incoraggiate dalla più potente società di intrattenimento del mondo. Sono gratta che qualcuno sia intervenuto in mia difesa in modo così potente e non vedo l'ora di riabilitare il mio nome. Allora, non so voi, ma io non vedo l'ora di assistere al seguito di questo processo. Sarà interessante vedere quali e-mail e comunicazioni girassero la Disney prima che Gina Carano fosse cacciata, anche se non sarei sorpreso se la Disney decidesse di patteggiare pur di non dover rivelare i propri documenti interni. Vedremo. Se volete approfondire questa storia, vi lascio il link nella casella di descrizione sotto questo video. Arrivederci alla prossima dal vostro Roman di Epoch Times. Restate informati e soprattutto restate liberi. Grazie a tutti.